Salve e bentornati su Playerspace, sono Marco Stoxx ed eccoci nel quarto episodio di Simulatori Bizzarri. In questo quarto episodio tratteremo Tower Truck Simulator 2015, prodotto dalla United Independent Entertainment, che avete già sentito parlare nello scorso episodio. Per chi non conosce i nostri amici vi consiglio di guardare l'episodio precedente. Tower Truck Simulator 2015 è un gioco di simulazione di carriattrezzi di varie tipologie, come si può ben intuire dal nome, e sembrerà promettere bene la recensione fatta dai ragazzi di Multiplayer.it, che citandoli affermano. Si tratta dunque di andare in giro per un'ampia città ricostruita in maniera piuttosto realistica ed effettuare le classiche mansioni dei carriattrezzi, particolare per quanto riguarda l'emozione delle auto in sosta evitata. Cosa cosa? Ho ben capito! Andare in giro per un'ampia città ricostruita per giunti in maniera piuttosto realistica. Non so in quale esperienza mistica rimballiare lo scrittore, ma questo gioco si è rivelato tutt'altro. Iniziamo dal repertorio grafico, che sembra piuttosto adeguato per un simulatore, è ben realizzato. L'ampia e realistica città descritta non so nient'altro che una dozzina di modelli fatti per bene e ripetuti alla nausea. Quindi, tanta realistica non è. È la volta dell'audio. Audio. Un'erogistrazione che si ripete ciclocamente dal menu principale fino al gioco. Ascoltate. Non è nient'altro che un'infinità di veicoli che sfrecciano sopra un'autostrada e alcuni di questi emettono pure i suoni di Claxon. Una città che nella realtà è deserta. Dove sono tutti questi veicoli? In un mondo parallelo? Vabbè, te lasciamo l'audio che ci farà odiare sempre di più il gioco, passiamo alla fisica di esso. Qualcosa di davvero però normale. I camion che guiderete, che dovrebbero pesare tonnellate, si impendono contro altri veicoli come se non pensassero nulla, per incontrare delle molteplici penetrazioni che potrebbero avvenire con i vari veicoli, senza non molta difficoltà. La cosa più divertente è prendere il veicolo con il filo d'acciaio che si allunga per trascinare l'auto sopra la piattaforma e allungarlo all'infinito facendo per entrare in palazzi e nel terreno, fino ad essere attratti o scarventati alla velocità della luce come se non fosse nulla, per non parlare dell'amore incontrollato che ha la casa videoludica tedesca, per essere burrose come abbiamo potuto notare nell'episodio precedente. Eh, ma è un simulatore di carriattrezzi, cosa pretendi? Pretendo un gioco con almeno dei suoni decenti e non continuo traffico infernale, quando la città è deserta. Che la vita del veicolo non fosse segnalata con delle stelle, tipo quelle di un qualsiasi titolo di GTA, e che almeno la fisica di gioco non sia un abrobrio. Se devi fare un gioco, realizzo per bene, non tanto per farlo. Non è che siccome un simulatore puoi essere tutta una merda e puoi fare solamente le funzioni del tipo, come in questo caso, carriattrezzi ben realizzate. Oddio, trasciando il repertorio audio e la fisica di gioco sarebbe un bel gioco di simulazione. Ben realizzate le meccaniche, tempi troppo, ma se giornalmente lunghi, e le guida troppo imprecise, è di poco aiuto, ma nel complesso è una cosa inguardabile, peggio di Airport Simulator. I miei voti sono, sì e mezzo alla grafica, non pecca di molto, magari i modelli potrebbero essere aumentati e non ripetuti all'infinito, zero all'audio, pressoché inesistente, sì alla giocabilità, e tre alla fisica di gioco. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere lasciando un mi piace qui sotto, o non mi piace, secondo i vostri gusti, e un commento magari per spiegare il mi piace o il non mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, visitate la nostra pagina web e seguiteci su Facebook e Twitter. Il resto lo trovate nella descrizione. Grazie a visione, ciao!